In piazza 20 Settembre sta per avere inizio la festa per il tesserato numero 1000 dell'ente carnevalesca, piazza 20 Settembre che piano piano si sta animando e con Davide Cecchini che è lì presente per noi ci colleghiamo e vedete siamo in diretta alle 20 e 56 minuti. In questo momento sta calando il buio, si sta facendo il sera. 20 e 56 minuti. Vai Davide. 20 e 56 minuti siamo in diretta da piazza 20 Settembre come vedete appunto dal grande campanile siamo in direttissima e siamo qua con i protagonisti di questa grandissima serata che è appunto questa grande festa per i 1000 dell'ente carnevalesca. Allora sono in compagnia, tutti lo conoscete, Luciano Cecchini presidente dell'ente carnevalesca ma soprattutto sono in compagnia di colui che animerà tutto quanto, si può dire il numero uno dell'orchestra in Italia Gianmarco Bagutti. Ciao a tutti. Allora faccio parlare prima al presidente perché fagliano ieri di casa. Allora presidente una grandissima serata questa che sta per partire perché ancora qua ci stiamo solo scaldando perché tutte le persone intanto si stanno cenando a casa perché poi con calma possono venire perché qua dalle 21 e 30 in poi inizierà tutto. Esatto è tutto pronto la piazza si sta riempendo vi ricordo che anche il grande parcheggio dell'ex caserma rimarrà aperto fino alle 3 di notte e se potete venite tranquillamente a piedi o anche in bici lasciate pure le macchine a casa. Alle 21 e 30 grande serata con l'orchestra italiana Bagutti. Mi ricordo cari soci di portare la tessera con voi perché è iniziata la distribuzione della maglietta ricordo appunto dell'evento e assieme vi sarà dato anche il coupon così potete avere una bevanda gratuita grazie alla collaborazione degli esercizi pubblici qua della piazza. Che dire la soddisfazione è tanta non solo mia ma di tutto il direttivo dell'ente carnevalesca per questa meravigliosa serata qua in piazza 20 settembre dove ogni anno nasce e muore il nostro carnevale. Quindi una grande soddisfazione siamo partiti abbiamo superato i mille alla grande e andiamo avanti così tutti i fanesi che sostengono il carnevale sono con noi. La serata è libera completamente libera per tutti non si paga nessun tipo di ingresso che dirvi non mancate a questa meravigliosa serata d'estate con noi dell'ente carnevalesca. Grazie grazie presidente ritorno da Gianmarco ecco se possiamo far vedere così con un piccolo colpo d'occhio che cosa hanno provato a montare se riusciamo a girare un po' a ruotare facciamo vedere insomma che cos'è Bagutti perché un conto è dirlo e un conto è vederlo. Tante persone sono accorse oggi in piazza sono rimaste così un po' stupite Gianmarco. Ora è tutto il buio però lo spettacolo deve ancora iniziare quindi poi fino alle 21 e 30 35 40 io aspetto tutti gli amici in piazza per me è un piacere un onore arrivare qui. È una zona che non ci veniamo tanto e quindi un motivo in più per venirci ad ascoltare quindi vi aspetto veramente. Ecco Gianmarco una piccola curiosità visto che siamo proprio in diretta con i nostri telespettatori dacci un po' di numeri quanto è grosso questo palco perché è incredibile avete riempito tutta la piazza. Sono 32 metri 32 metri di larghezza per 9 metri di altezza tanto schermo led tante luci tanti apparecchi audio tanta roba. Grazie mille Gianmarco ti facciamo andare a cena perché ti abbiamo rubato proprio per mangiare grazie mille gentilissimo. Aspetto grazie a voi. Allora noi invece non vi salutiamo più l'ultimo minuto vogliamo parlare con il vicepresidente Leonelli perché ha qua la maglia ufficiale di questa serata. Buonasera a tutti questa è la maglietta che riceveranno tutti i soci questa sera che si presenteranno sotto il pupo del bugiardone mostrando la tesserina avranno in omaggio questa maglietta tiratura limitata unica irripetibile. Molto chiaro chi non ci crede stia a casa tutti pensavano che a mille soci appunto Leonelli lui che curava un po' il tesseramento non ci arrivava invece questa è una bella soddisfazione. Allora questo dimostra che con l'impegno di tutti il fanede la cittadinanza ci tiene al carnevale chiaro c'è 10 euro è vero che sono non sono però li hanno spediti tutti volentieri per il carnevale. E questo è una soddisfazione enorme perché se consideriamo che su 60 mila abitanti 30 mila famiglie siamo contenti. Siamo contenti grazie mille un'ultima cosa questa sera per tutti i soci e non solo i soci ci sarà la torta di guerrino che con il logo I love carnevale di Fano il carnevale di Fano che è dolce da gustare il dolce non mancherà. E poi che festa sarebbe senza la torta? Allora questo è un invito molto chiaro ritorniamo con alle nostre spalle il bugiardon che ci guarda dalla piazza allora qua sta per partire siamo in direttissimo sono le 21 tra circa mezz'ora comincerà ad arrivare tantissime persone l'orchestra inizierà la lotteria come abbiamo detto la torta insomma tante sorprese soci e non tutti in piazza 20 settembre. Grazie Davide grazie buon lavoro anche perché naturalmente con la nostra telecamera seguiremo non in diretta ovviamente ma seguiremo e realizzeremo uno speciale che vi trasmetteremo nei prossimi giorni.